Presidente Fedriga, lei si è arrabbiato molto per un fatto che è accaduto in una scuola elementare di Trieste. Che cosa è successo? È accaduta una cosa vergognosa. A un bambino, durante una lecita scolastica, è stato impedito di dire che il Natale è la festa di Gesù. In quanto la sedicente maestra, che ha cancellato questa frase dalla letterina del bambino, e devo dire drammaticamente anche la dirigente scolastica, che ha difeso la stessa maestra, ritengono che questa recita doveva essere impregnata sui valori dell'integrazione e dell'interculturalità. Quindi è vietato, secondo loro, citare il nome di Gesù e dire che il Natale, com'è, è la festa della nascita di Gesù. Ovviamente verso questi atti ideologici, che ritengo estremamente violenti, verso l'educazione di bambini, verso l'educazione di minori, la Lega si opporrà. Presenterò un'interrogazione alla Camera dei Deputati, chiederò che vengano accertate le responsabilità e chi ce le ha deve essere rimosso dall'incarico che ricopre. Evidentemente non è adeguato a fornire un'educazione adeguata a dei bambini, a dei bambini oltretutto così piccoli di una scuola elementare, e mettono in prima linea la loro ideologia rispetto a un'educazione sana e costruttiva. Io inviterei a queste maestre, a questi sedicenti dirigenti scolastici, magari a insegnare, a raccontare ai bambini cosa avviene ai cristiani perseguitati nel mondo. Per formare una vera integrazione, una vera cultura della pace, bisognerebbe dire che in Iraq ai cristiani, ai bambini cristiani, è vietato di festeggiare il Natale, vengono perseguitati, massacrati e uccisi. Invece di fare queste tristi scelte che nuociono semplicemente non soltanto alle nostre tradizioni e alla nostra cultura, ma anche un buon andamento dei nostri istituti scolastici.